Nei video precedenti sono andata a trovare l'arcivescovo in Duomo a Milano e al convegno per gli operatori della comunicazione. Questa sera è l'arcivescovo a venire a trovare noi della zona di Varese per guidarci in via Crucis di Quaresima. Iscrivetevi al mio canale e attivate la campanella per rimanere aggiornati sui miei tutorial di cucito e le mie storie di creativa. Ciao sono Elena, sono eccitata perché stasera arriverà l'arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini, a guidare la via Crucis di Quaresima 2019 per la zona pastorale di Varese. Trovate i link in descrizione dei video precedenti. Anche stasera, come ogni volta che partecipo a un evento della Chiesa di Milano, mi sento come ha detto Monsignor Delpini. Siamo insieme anche se non ci conosciamo tutti e ci diamo testimonianza gli uni agli altri anche se non parliamo tra noi. Mi sento a casa, tra amici e persone che mi vogliono bene. Prosegue con un consiglio per una Pasqua più serena e felice. Fate gli auguri di Pasqua a qualcuno con cui i rapporti si sono spezzati. Mandate un biglietto, fate una telefonata, portate un ramo d'ulivo. Infine, ripete quello che ho imparato durante gli esercizi spirituali. Chi sa pregare chiamando Dio Padre può prendere coscienza della propria dignità. Io non sono un niente, un frammento insignificante perduto in un universo insensato. Io sono figlio di Dio, la mia vita è preziosa per Dio. Quindi, vedermi come mi vede Dio che mi ama infinitamente. Ogni sera, ripercorrere i momenti della giornata, quelli belli e quelli meno belli, e ringraziare per i doni ricevuti. Conclude Monsignor Delpini, siamo chiamati ad abitare nella gloria, risorgeremo. Spero che questo video ti sia stato utile. Iscriviti al mio canale se non lo hai già fatto. Seguimi anche su Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest e Vero. E visita il mio sito eleamoda.it Ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video.